vuoi cucchiare? nooo ragazzi ti ringrazio ma questo ottogramma c'è un mistero un mistero? ti presento? amici eh no tu parla amici di mistero sono qua e prima che vi cagli addosso volevo presentarvi un grandissimo abbiamo qui con noi il grande esperto di misteri adancandol anzi adancarmo molto carmo carmo volevo farti una domanda ma come mai hai sempre questa mascherina davanti perchè se mi trovano sotto casa potrebbero ammazzarmi di botte quindi trovano pure me andiamo via prima che ci gonfiano di botte andiamo via non ci vergogno non ci vuole non ci vuole questa è diversa vai viola diventate tossiche poi non fai niente ah 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 siccome si sono protrati molto nella presentazione aspettiamo tutto secondo tempo e tutto blocco hai tirato alla lunga perriere dentro Roberto smila sempre con la tua macchina è una volta un due cin noi ah 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 non c'ho voce devo esibirmi in un altro modo oi Pinto oi Pinto oi Pinto visto che si è protratta la presentazione il terzo blocco lo tagliamo e beh il minimo peraltro chi c'è al terzo blocco? tu sempre io ci vado di mezzo eh mi piace tu no eh è carnosa è carnosa ci sei ci fai ovunque vai leccherai perché non verai bapia 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 ma la saliva non ti finisce mai che ha una multa d'amor, ma è sia lontana, l'ha capito anche il perdon che ricorda come pocina l'amor, se pocina forse esagerato tu scusa ma sempre che vuoi povera britney's beat, ha scordato il puton con le shadows con i mesi che stentano, che è inserio a al fatto vincuos, ora prende un cuos non ria di sempre sul sempre, anche sto a fattare con te dicono che la mia famiglia è in te, os stai facendo, se mi ha cambiato, la mia famosa la mia famiglia è in te, os ma come si va, come sei grande solo mi è mutante